cuccioline come state perché cos'è successo cos'è successo esatto ovviamente abbiamo la nostra ruota e questa sorpresa quando noi tireremo la ruota faccio un esempio c'è la cipollina e tu dovrai mettere la cipollina ma avete visto cosa c'è qua ragazzi vi spiego tutto c'è il prosciutto qua patatine piccanti poi ci sono i pomodori secchi che ci sono quelli secchi olive cioccolato fondente che fa bene una salute ma io lo faccio per voi limone pomodori piccoli questi ti piacciono dai ma che bontà ma che bontà ma infatti anastasia allora io amo tutto tutto assaggerò io le vostre pizze sì 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 ma la cipolla è buonissima formagini e l'aglio cioè la mia pizza preferita è aglio e acciughe quindi non avrei alcun tipo di problema siete pronte per questa challenge un po disgustosa un po no chi inizia per primo inizia Anastasia? dai dai io perché ho perso vai pomodori secchi eccoli dai dai ma se sono buonissimi ma se sono buonissimi Ad Anastasia piace il gorgazola. Vai Anastasia! Pronta? Anastasia! Cipolla ora! Acciughe! Acciughe buonissime! Lucia, però non mi dispiace di mangiare. Ragazzi, le acciughe nella pizza, sulla pizza con l'aglio, sono la fine del mondo. Vai, vai! Una! Anastasia, ma quanti acciughe hai messo? Non lo so! Va bene! Tranquilla! A me piace tantissimo quella di pizza! No, la mia propria! A me si! Ma ha un po' di forza in questa ruota, ragazzi! Cipolla! Prendi un bel coltellino e tagliamo il cipollino! No! Non staglia! Dai, ora piaci! Non voglio guardare tu che roba! Uh! Vediamo piccolino! Qui! E' un altro qui! E' un altro qui! Ma che buona anche la tua! Guarda io! Che fortuna! Olive! Che buona! Olive! Posso mangiare l'olio? Posso mangiare l'olio? Cominciamo, eh! A mangiare gli ingredienti! Buona! 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 Capricciosa! Mancano i capperi! Non li ho voluti mettere! Ma altrimenti era la mia pizza preferita! Anche la tua mi piace! Se poi ti arriva il gorgonzola siamo a forza! No! Sì! Sì! Ci sta più su questa pizza e non su questa! No! Qual è la tua? Ok! Va bene Anastasia! Bravissima! Vanessa! Prendi la ruota! Cioccolato fondente! Cioccolato fondente è la chicca! Guarda, eh! Buongiorno! Guarda! 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 Guarda io! Oh! Limone! Buonissimo! Molto fresca! Limone! Pomodorini secchi e cipolla! Direi che è perfetta! Spruzza, eh! Non fare finta! No! Vai avanti! Trattiglia! Basta! Vai! Vai! Ma dai che il limone disinfetta l'organismo! Adesso riesce il cioccolato con denso! Vai Anastasia! Ho paura! Vogliamo il cioccolato con denso sulla sua pizza! Guarda! Guarda! Ho paura! Hanno quasi. Tanti! Oh! C'è il limone! Oh! 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 però no è fresco dai il pesce con limone ci sta ok dove tu gli hai buttato il succo delle acciughe basta bravissima grazie allora facciamo un conto degli ingredienti che abbiamo nel piatto il limone tre giusto tre tu e tre olive acciughe e limone adesso faccio veloce non è veloce bravo dai devo guardare eh dai guarda 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 sì cos'è i pomodorini i pomodorini che a te piace è la pizza del pomodoro pomodorino pomodorone pomodoro secco vai tanto ormai l'acciuga ce l'hai lì Ale è spruzzata così ah proprio intero così io lo metti no ma è un tavolo eh te lo volevo ricordare tutto qua l'unico ingrediente che ti piace la spruzzatina di pomodoro eccolo là va bene Anastasia dai vai cosa vorresti che esce niente niente è impossibile no ancora limone no basta non posso ma Anastasia ma non puoi mangiare una pizza al limone ma come mai piace solo il limone ancora limone ancora allora questa regola che rifacciamo l'abbiamo decisa noi eh adesso quello che arriva arriva aglio buonissimo mamma mia sarà la mia cena la tua pizza che buono il profumo dell'aglio è fantastico che la buccia si toglie dopo eh senti vuoi dire te lo toglio io così non metto uno spicchio vuoi mettere uno spicchio intero così no no terribile pezzettini piccolini piccolini piccoli piccolini piccoli è un troppo ecco quello lì no e anche quello che schifo ma no ma non si mangia così l'aglio ma te sei matta vai tutto intero perfetto bravissima ok non guardare non guardare non guarda madonna no male il prosciutto cotto il prosciutto cotto si è buono ma la staffa allora non è pronta la pizza eh ma non è pronta la pizza eh no ma stavo su po' tu eh si? guarda guardate Vanessa come abbonda quel prosciutto guardatela va bene? ma vuoi questa pizza? si si questa pizza sarà buonissima perché io ho cominciato solo il bordo però non è vero si non ci credo vai non guardare tu dovrai assaggiare la fetta più succulenta invece tre, 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 no? cos'è? ancora acciuga allora stasera allora sceglie veramente ma io non capisco non so avresti una pizza solo di acciughe tu eh 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 sta su tre tentativi poi ti prendi quello che esce eh limone ancora non ci posso credere ma perchè? oh questo giro è deciso così che mi piacciono la macumba di Vanessa cioccolato fondente nooo cioccolato fondente aiuto in realtà sia un pezzettino piccolo però eh un pezzettino piccolino non puoi assaggiarlo? no si che puoi assaggiarlo tu puoi assaggiare tutto quello che è non puoi assaggiarlo dai su Anastasia se non sei in grado quello non so io ok vai no non vale eh tutto nel cielo ma perchè proprio in mezzo no? all'opera non mangia la busta no 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 ma si perchè no ok gira la ruota prendi la ruota Vanessa le patatine piccanti a me piacciono però mi faccio così così e cosa faccio? io sono brava sono decisa sono coraggiata che faccio bravissima no l'ho pensata 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 ma se gli hai rovesciato un parattolo di olio di acciughe nella servizia di cosa ti stai lamentando? di due patatine? l'ho pensata l'ho pensata ma le patatine sono patatine l'ho pensata adesso un pezzo di aglio e un mezzo di ciparo andiamo Anastasia adesso ci ho mangiato i mezzi tutti qua sopra shhh dai Anastasia cosa è riuscita adesso? ah anche quello cos'è? pomodorini pomodorini assaggia che cosa? assaggia ma allora col teglino col teglino vai Ani su va bene butta dentro Ani ragazzi quello è un tavolo è un tavolo ok bellissime le vostre pizze quella di Vanessa è di un'artistico paura con le patatine allora ragazze facciamo l'ultimo giro perché Vanessa deve assolutamente trovare il gorgonzola ma assolutamente vai Vane gorgonzola 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 mitica batti 5 Vanessa è la mia pizza preferita si Vanessa e gorgonzola e gorgonzola vai Vanessa gorgonzoliamo la 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 mia cena è quasi pronta la 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 voglio ancora la 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 aspetta vedi di mettere tutto quel pezzo di gorgonzola così come è in mezzo a questa qui vai sono coraggiosa ma mi fa schivare il gorgonzola ma nooo guardate Anastasia che cosa fa lei ama il gorgonzola tanto quanto bella grande Anastasia Ma è pochissimo Ma è pochissimo Ma è solo qui Ma no Va bene dai Gliela concediamo Che buona posso leccarti il dito Allora Anastasia è rimasto un solo ingrediente Che non abbiamo usato Ed è il formaggino No abbiamo usato tutto Guarda Tutto 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 Anche il cioccolato fottetto si è riuscita a prendere Quindi formaggino 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 Su Vanessa Formaggino Formaggino non ci credo Anastasia sei un mito Vai Vai Prego amore Perché non ho messo anche la pastina No La pastina col formaggino Dai su che inforniamo Che la cena è quasi pronta Allora io vi devo dire una cosa A me piacciono tutti e due Tu se non avessi messo l'olio delle alciughe A me piacciono le alciughe Ma l'olio insomma un po' pesantuccio Ma fa niente Ma non sono pazza Bisogna mangiare tutto nella vita Ma l'hai mangiato Lo stai mangiando Dai nel centro Anastasia Butta dentro Guarda Vanessa che ti aiuta a distribuirlo in parti uguali nella tua pizza Va bene Ma cosa stai combinando? Stai limpegando con gli acciugli Allora Anastasia dovrei mangiare questo pezzo Ok? Ricordatevi questo pezzo Questo qua pieno di acciughe Cioccolato a fondo No No Sì sì Ok Va bene Ok ragazze Inforniamo E ci vediamo tra Dieci minuti Ok Stai infornando questa bellissima pizza Anastasia anche tu? Io bruttissima Si carina la tua pizza Ma cosa mettere in forno? Io sono lo chef Barest Inforniamo Posso? Guarda che ti bruci Mi sento un pizzaiolo Sì Dove la metto? Ma no Allora intanto la teglia Ma non puoi mettere in verticale la teglia In orizzontale Pizzaiola Oh La Guarda Mi chiedo già che finisce per terra Tu e la pizza Va bene Benissimo Ciao ciao pizzette Cucetevi bene Che non vediamo l'ora di assaggiarvi No Mai Mai Vero? Ma in casa Posso dire una cosa? Ho messo un frasino Sei una barola Sei la solita barona Pizze pronte Ragazzi c'è un profumeno Vediamo un po' qua Ma non puoi aggiungere? Ah Allora Io direi che Vanessa deve scegliere la fetta di Anastasia E Anastasia Quella di Vanessa Io so già Quale Anastasia Piccola grande No piccola Allora Io direi che lì c'è tutto Concentrato C'è il formaggino? Sì Anastasia tocca a te Decidi quale petta deve mangiare Anastasia Anastasia lì non c'è il gorgonzola Sì invece c'è tutto Non è vero Questo è il gorgonzola Sì Questo è il gorgonzola No Qual è mozzarella della pizza? Furbetta? No è il gorgonzola ma non mi ricordo io L'ho messa lì Va bene Mi lo dai questo Un baratto di fette di pizza Allora Chi assaggia Facciamo Allora anche io gli metto qualcosa di sopra Nella mia In formato Eh non gli avevi messo il formaggino Ok Tu il gorgonzolino Benissimo Che buono Chi assaggia per primo? No insieme No sasso No prima tu perché prima tu No insieme Vai insieme va bene Oh no che cosa è? Allora Anastasia assaggia per prima Dai che buono Dai Com'è? Perché? Cos'è che non ti piace? Tutto Ma non è vero C'è solo il forno Ah l'acciuga È buono Grosso eh Mmm È buona? Allora C'è l'acqua Ti sente molto Il gusto tipo della Del pittante E poi Il limone si sente? No? La tua è buona Ma la cosa è il gusto Sì? Ma ti è caduto il pomodoro secco Quello che dovevi mangiare Ti è caduto Brava Ecco Brava 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 Vanessa Brava Brava Anastasia Che ha preso coraggio Ti comincia a piacere Vero? Guarda che a te l'acciuga piace eh Perché quando facciamo gli spaghetti con l'acciuga Tu li mangi Sei per vomitare Anastasia Guardatevi Mentre fate No vabbè Brava 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 Vedete cosa significa? Poi in questo momento Avete fame Perché è ora di cena E quindi vi state gustando Non buttare l'acciuga Che sapo santa Non buttare l'acciuga Va bene Allora Adesso le assaggio anch'io eh Cuccioline cuccioline Scrivete nei commenti Secondo voi qual è la pizza più schicola tra le due? Se vi piace questa challenge Scrivetelo nei commenti Daole È arrivata mezzanotte Le campane sono in festa Voglio spiare Papo Natale Non ci vedo Niente di male Presto Anastasia Corriamo giù Mamma